Buongiorno e bentrovati ai giornali in edicola alla rassegna stampa ai titoli dei principali quotidiani di oggi sabato 2 ottobre 2021 in primo piano il voto amministrativo in alcuni dei principali delle principali città italiane. Il clima con la manifestazione a Milano guidata da Greta Thunberg e il farmaco anti covid che è una delle scoperte che giungono dall'America in questo momento ancora di grande emergenza dovuta alla pandemia. Cominciamo con i titoli del Corriere della Sera che apre proprio dedicando il titolo principale al voto tra inchieste e tensioni lobby nera si dimette un eurodeputato di Fratelli d'Italia Salvini e Meloni siglano la pace si chiude la campagna. Oggi infatti come sapete è il giorno di silenzio elettorale iniziato ieri a mezzanotte un nuovo intervento dei magistrati morì si fu portato in caserma la notte del festino. Dunque si chiude la campagna elettorale per le amministrative domani e lunedì si aprono le urne. Ultime ore tra inchieste e tensioni esplode la polemica sulla lobby nera Carlo Fidanza eurodeputato di Fratelli d'Italia si autosospende. Pace tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro di noi veleni mai visti. Inchiesta su Luca Morisi poi fu portato in caserma la notte dei festini. La guida alle sfide nelle città chiave urne aperte domani e lunedì da Monterone all'Ecco 32 abitanti e 27 votanti le quattro città più importanti più grandi del paese Roma Milano Napoli e Torino. Sono più di 12 milioni gli italiani alle urne domani e lunedì e il Corriere propone una guida per il voto. Clima a migliaia in piazza Greta canta bella ciao la fotonotizia titolo centrale del Corriere a Milano la manifestazione dopo il confronto con i politici. L'attivista svedese Greta Thunberg ha guidato il corteo per il clima a Milano. John Kerry la transizione farà bene all'economia parla della più grande transizione ecologica che il mondo abbia visto dai tempi della rivoluzione industriale. Si dice convinto che sarà un bene per l'economia e per l'aria dei nostri bambini. Così John Kerry, inviato degli Stati Uniti per il clima, è intervenuto al Pre-Cop Summit di Milano. L'editoriale è dedicato alle amministrative alleanze alla prova. Si vota per le città che hanno bisogno di essere governate bene, soprattutto Roma dove bellezza, pulizia ed efficienza fanno appugni. Ma con l'incognita dell'affluenza vanno alle urne 12 milioni di italiani. Lo sguardo va inevitabilmente anche alle elezioni politiche che, anticipate o no, presto verranno. Non è affatto chiaro se vedranno una riedizione del bipolarismo, dice Roberto Gressi, con il centrodestra da una parte e l'alleanza tra PD e 5 Stelle dall'altra. Per il centrodestra il dilemma resta irrisolto già dal voto del 2018. Non si capì mai in campagna elettorale se per Matteo Salvini fosse quella la coalizione su cui puntare tutto. Insieme si vince o si perde. E infatti non quel tandem con Luigi Di Maio naufragato in poco più di un anno. Oggi Forza Italia con convinzione la lega con la testa ma non con la pancia sostengono il governo di Mario Draghi. Mentre Giorgia Meloni spara sul quartier generale e gli alleati non le risparmiano sgarbi in termini di occupazioni del potere. Fratelli d'Italia continua la sua scalata elettorale, soprattutto ai danni di un Matteo Salvini indebolito anche dalla diaspora interna. Ma è improbabile che la Lega le riconoscerà la leadership soltanto perché avrà un voto in più. L'inflazione sale, il rischio di scosse sui tassi e ripresa, la spalla del titolo alto, i prezzi, l'incremento è al 3,4%. La tempesta perfetta dei prezzi ai massimi dal 2008 incombe sulla strada della ripresa. Con l'inflazione salita al 3,4% si ipotizza un'alleanza tra i paesi dell'Unione Europea per acquistare il gas. E poi come vi anticipavo nel sommario dei titoli principali di oggi, la pillola anticovid che riduce i casi gravi. Il titolo di Merck vola in borsa, potrebbe chiamarsi Molnupiravir, l'antivirale che si è dimostrato efficace nella cura contro tutte le varianti del covid, si è assunto in fase precoce, è capace di ridurre ricoveri e morti. Sale in borsa il titolo Merck. E poi la cronaca, il giallo del pavese, il giallo di Polina, morte di due cani spariti, giallo sulla morte di Polina, trovata annegata nel pavese, spariti i cani che erano con lei, la famiglia dice spinta in acqua. E andiamo subito a guardare i titoli principali di Repubblica, dai neonazi ai soldi sporchi, i video che accusano Fratelli d'Italia. Finanziamenti illegali, saluti romani, frasi antisemite. Alla vigilia del voto un'inchiesta imbarazza. Fratelli d'Italia e il capogruppo Fidanza si autosospende. Meloni, da noi non c'è spazio per i razzisti. PD e Movimento 5 Stelle hanno dichiarato fatti gravi. Caso Morisi, quelle telefonate al Viminale per chiedere riservo. Fondi neri, antisemitismo e saluti romani a testimoniarli l'inchiesta di fanpage su Fratelli d'Italia. Carlo Fidanza, capogruppo al Parlamento europeo di Fratelli d'Italia, si autosospeso. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta con le ipotesi di finanziamento illecito al partito e riciclaggio. Ed emergono le telefonate al Viminale da figure della Lega a caccia di informazioni sul caso Morisi. I due lanti negli amministrative. Titola ancora la Repubblica. Letta, sogna la vittoria e riporta il PD in periferia. Salvini al round finale per la resa dei conti interna. Meloni vuole Roma ma è una scommessa. Conte va all'esordio con l'incubo di un flop. E andiamo a vedere invece i commenti di Repubblica. In particolare sono dedicati proprio sempre alle amministrative ma con uno sguardo più ampio sia sul centrodestra che sul caso Lucano. La destra è impresentabile. Il commento di Stefano Cappellini. Può una coalizione che produce le candidature di Michetti a Roma e Bernardo a Milano. ambiri e seriamente a governare il paese. Può una coalizione che annovera cultori del fascismo tra i suoi dirigenti e presentarsi come un'affidabile destra di governo. Queste alcune delle domande a cui il giornalista proverà a rispondere all'interno poi dell'articolo. Il racconto dal cuore nero al Parlamento. Da cuore nero una specie di centro sociale di estrema destra chiuso nel 2010 ai locali alla moda di Brera. Dalle foto con i rampolli delle famiglie calabresi che gestiscono lo spaccio di droga a Quartogiaro all'inseguimento di un seggio in Parlamento. E poi il reportage dedicato proprio a Mimo Lucano. Come dicevo in Calabria la variante Lucano nelle urne. E la fotonotizia dedicata invece a Dubai nel padiglione italiano. Lo strano caso del David il nudo nascosto all'Expo. E andiamo avanti con il quotidiano dei Vescovi italiani della Conferenza Episcopale italiana. Venire, apre, pronti a cambiare noi stessi e il clima. I ragazzi del Friday for Future in piazza e il loro impegno personale per l'ambiente. Questo è il tema scelto dal quotidiano Avvenire per l'Apertura. La speranza siamo noi le persone riunite per creare un cambiamento. Sono le parole di Greta Thunberg che ha pronunciato al termine del corteo studentesco di Milano. Guidato insieme a Vanessa Racchetta, l'altra attivista per il clima, protagonista di Youth for Climate. Tanti giovani in strada che ci hanno raccontato come sono disposti a cambiare i loro stili di vita per salvare il pianeta. Elezioni, chiusura con i botti, il titolo centrale di Avvenire. Il caso Morisi, Lucano e Fidanza fanno deragliare la campagna elettorale. Fanpage svela nostalgie fasciste di esponenti di Fratelli d'Italia. Aperta un'inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti. Presunti finanziamenti illeciti e riciclaggio di denaro sono queste le ipotesi di reato su cui la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta dopo il servizio della testata online Fanpage.it in cui compaiono alcuni esponenti milanesi di Fratelli d'Italia, tra cui Carlo Fidanza, che esplicitano anche atteggiamenti nostalgici di fascismo e nazismo. Nell'altro commento di Fatigante si legge che si è chiusa un'altra campagna elettorale per le amministrative, nervosa nelle sue battute finali, ma più per parallele vicende di politica nazionale giudiziaria. L'intervista anti Salvini del ministro leghista Giorgetti, il caso Morisi, la condanna di Mimmo Lucano, candidato in Calabria, le video rivelazioni su una lobby nera di Fratelli d'Italia. L'editoriale invece del quotidiano cattolico, evitare la crisi all'inglese, immigrazione, lavoro, servizi essenziali, questi temi su cui si dedica Maurizio Ambrosini appunto nel suo editoriale. La crisi degli approvvigionamenti nel Regno Unito a causa della carenza di autotrasportatori può forse generare qualche maligno sorriso alle spalle dei fautori della Brexit, ma in realtà apre lo sguardo a considerazioni più profonde sul rapporto tra mercato del lavoro interno e politiche migratorie. Nel caso britannico la crisi non riguarda solo il settore dei trasporti su gomma. Dall'industria del pollame al ben più ampio settore delle pulizie, i datori di lavoro lamentano la mancanza di mano d'opera, reclamano la rapida concessione di visti d'ingresso, contestano l'idea che siano sufficienti autorizzazioni per brevi periodi. Sembra caduta nel vuoto dunque l'esortazione del governo di Boris Johnson a formare e assumere i lavoratori nazionali accompagnata nel caso dell'autotrasporto da uno spericolato alleggerimento delle certificazioni necessarie. Ho torto collo, Downing Street ha dovuto ripiegare sulla promessa di oltre 10.000 autorizzazioni temporanee all'ingresso, ma nemmeno queste soddisfano gli imprenditori. I permessi per brevi periodi possono funzionare in settori con stagionalità strutturale prevedibile, come l'agricoltura e l'utilismo estivo, non per attività che si svolgono tutto l'anno. La temporaneità nell'autotrasporto o nell'industria del pollame risponde all'obiettivo politico di evitare l'insediamento permanente dei lavoratori e non invece ad una logica economica. Ancora il titolo di Sfalla, l'argomento appunto dedicato alla Chiesa in cammino, una parola e una santa per il sinodo. Siamo in tempo di preparazione all'inizio del cammino sinodale della Chiesa Universale, in cui si inserisce quest'anno il cammino comune delle chiese locali italiane. Come uso fare in questi casi? Ho cercato di dedicare un impegno di preghiera per chiedere al Signore una parola e un esempio di santità che mi mettessero in sintonia con questo evento di Chiesa. La Chiesa cammina sempre sulle orme della parola di Dio e dei Santi. Questa è la mia fede semplice, dice Nazareno Marconi. Ancora il commento dedicato alla sentenza Mimmo Lucano. Lucano Dolci Calamandrei, ora un appello, Eugenio Mazzarella scrive. Il pubblico ministero ha detto che i giudici non devono tenere conto delle correnti di pensiero. Ma che cosa sono le leggi se non è se stesse delle correnti di pensiero? Si interroga appunto il giornalista nel pezzo. E poi, come vi dicevo, una pillola anti-covid fa sperare per la cura. Vicini a una svolta per le cure anti-covid. dell'azienda americana Merck ha reso noto i dati positivi della sperimentazione di un nuovo farmaco che dimezzerebbe il rischio di morte per i pazienti colpiti dal virus. Andiamo avanti e guardiamo i titoli della stampa. Il quotidiano torinese, una macchia nera sulle urne. Meloni ci vogliono fermare. Pace in extremis tra i due leader sovranisti. Calenda fa il pieno a Roma. Alla vigilia delle comunali inchiesta, come abbiamo ribadito, sui fondi a Fratelli d'Italia. Il PD spera. Grillo, ora mi sentirete di più. Alla vigilia del voto per i comuni cade un'altra tegola sul centro-destra. I magistrati aprono un fascicolo dopo l'inchiesta di fanpage e ipotizzano finanziamenti in nero a Fratelli d'Italia. Pace in extremis tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che siglano un patto. Ci vogliono fermare. È l'ora di restare uniti. L'analisi poi di la spina nel voto di Torino. Le chiavi del paese. C'è un po' di esagerazione molto di vero quando si applica a Torino l'etichetta di città-laboratorio. Ancora, se il centro-destra paga l'immobilismo, Marco Follini, caro direttore, Berlusconi non vuole scherzare sui suoi delfini, Salvini e Meloni e dunque li inchioda ai loro limiti. Titolo centrale, Milano in marcia con Greta sulle note di Bella Ciao. A Milano per il Friday for Future, Greta Thunberg in tona Bella Ciao, canzone simbolo di libertà e accanto. La fotonotizia è dedicata al reportage su Varsavia. Chiude la Bielorussia e la frontiera della vergogna. Editoriali e commenti. Ancora Mimmo Lucano, lo sfogo del procuratore. Sono di sinistra e questa è la legge. Sono vittima di un'aggressione mediatica, amareggiato ma sereno con la coscienza, non agito con intento persecutorio. Luigi D'Alessio, procuratore di Locri a fine carriera, ieri ha rassicurato i suoi sette PM in gran parte di prima nomina perché la Calabria è la disgraziata trincea dei giudici ragazzini. Il commento, doratella di Cesare, giustizia ferita e popolo offeso. Alla fine hanno vinto la burocrazia ottusa, il legalismo meschino, il calcolo bieco e a leggere qui e là i capi d'accusa si è spinti a credere che chi è stato condannato dal tribunale di Locri sia un mostruoso truffatore o un capopopolo incline a farsi le leggi da sé. E l'intervento di Wenders, ora manettate anche il pontefice condannare Mimo Lucano a 13 anni di carcere, è tanto scandaloso quanto assurdo. È un grande pacificatore umanitario e coraggioso, ora sono pronto a vedere Papa Francesco in manette, non sarebbe meno ridicolo o farsesco. E infine le altre notizie a cui si dedica la prima pagina della stampa, i states testano il nuovo farmaco che ferma il Covid Italia, tutta in bianco. Piccolo Butan, isola antivirus, una leadership circondata dalla fiducia e pronta ad assicurare alla popolazione provviste e aiuti finanziari per fronteggiare le misure di salute pubblica. Una strategia d'ascolto che ha vinto l'esitazione vaccinale, un senso di comunità che ha portato i cittadini a sacrificarsi per proteggere la salute collettiva. Andiamo avanti con i titoli economici. Il sole 24 ore apre con il crollo del mercato delle auto del 32,7%. La carenza di chip sulle vendite di settembre pesano, gli stop produttivi e i ritardi delle consegne, i concessionari nel caos, le case aumentano i prezzi per garantirsi margini, difficoltà dei produttori a reperire microchip fermi nelle fasi di assemblaggio. Mancate consegne alla rete dei dealer, tempesta perfetta sul mercato dell'auto a settembre con un calo delle immatricolazioni del 32,7% sullo stesso mese 2020. Tra i marchi più colpiti, Stellantis. Concessionari nel caos attese prolungate anche di mesi e le case cominciano ad alzare i listini per garantirsi dei margini a fronte del calo dei volumi. Il nuovo vaccino in un mese costa la sanità 70 milioni. Cresce il successo dei super bonus, l'incentivo introdotto per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili. A fine settembre, secondo le rilevazioni dell'Enea, sono 46.195 le asseverazioni depositate dall'introduzione della misura, mentre ammonta a circa 7 miliardi e mezzo il totale degli investimenti ammessi a detrazione. Gli importi ammessi a detrazione di lavori realizzati superano i 5 miliardi. E andiamo avanti con i titoli dei giornali del Mezzogiorno. Cominciamo con il messaggero letta al Movimento 5 Stelle, patto sul secondo turno, pace, lega e fratelli d'Italia. Un video di fanpage, turba fratelli d'Italia, fidanza si sospende. Roma cala il sipario sulla campagna elettorale. Il voto domani e lunedì. Letta e Movimento 5 Stelle siglano un patto per il ballottaggio, mentre lega e fratelli d'Italia fanno pace. Il viaggio negli ultimi comizi. Roma e la voglia di risposte concrete. L'impegno finale dei quattro candidati. Il primo ciac nel lungometraggio dell'ultima giornata di campagna elettorale, quello del mattino a Spinaceto. I maggiorenti del centrodestra accompagnano il candidato Michetti. Il dizionario delle amministrative, preferenze, voti di lista, ballottaggi, come districarsi dal seggio elettorale. Una guida appunto proposta dal quotidiano della Capitale per il voto sulle amministrative. Il giudice tassa sulle mance, la cassazione e le donazioni dei clienti sono parte dello stipendio del dipendente. La protesta dei ristoratori la paga è bassa, imposte giù o non troveremo più camerieri. La cassazione ha deciso che anche le mance dovranno essere tassate. Sono come lo stipendio. Rebecca Bettarini, sposa all'erede di Romano, fa San Pietroburgo. La fotonotizia centrale è una romana alla corte del ZAR. È ancora titolo centrale dedicato. Obiettivi e tempi certi per le pratiche da casa. I paletti al lavoro agile. Pronto il decreto sullo smart working. Per gli statali il 30 ottobre, uffici riaperti. E invece l'editoriale del messaggero è dedicato ancora una volta alle amministrative. La lotta politica, colpi di scandali, le spine della destra di Alessandro Campi. Quanto sta accadendo in questi giorni? In questione delle parti della destra italiana, pericolosamente a ridosso delle elezioni amministrative. Da un lato un déjà vu politico-mediatico-giudiziario, dall'altro è la conseguenza degli errori politici di margine e di valutazione che questa stessa destra, forse un po' troppo inebriata dai sondaggi che la danno per vincente, sicura le prossime consultazioni politiche, ha commesso negli ultimi mesi su molti versanti. Sul punto c'è poco da dire. Lo scandalismo, specie quello sfondo sessuale, ma vanno bene anche l'accusa di lucrare sul business degli immigrati, di prendere soldi da potenze straniere, di aver avuto la casa in affitto ad un prezzo di favore, di aver strappato i bambini e le loro famiglie, di avere un figlio stupratore, di essersi fatto pagare le vacanze dall'imprenditore amico. Oltre a quel grande classico rappresentato dalla caccia alle trame nere, è la nuova frontiera della lotta tra i partiti, nel segno di un'intransigenza etica e di una sete di verità, tanto ipocrita quanto spesso palesemente strumentale, oltre che sempre a senso unico nella denuncia del male. Guardiamo i titoli invece del mattino. Napoli, un voto per la svolta. Domani comuni alle urne, ultime scintille tra Manfredi, Maresca e Bassolino. L'antimafia in una lista civica del PM, un condannato per spaccio di droga. Numeri a parte, 7 candidati e 32 liste per oltre 1000 aspiranti consiglieri comunali. Con le urne di domani si chiude a Napoli l'era De Magistris. Ieri ultimi appelli e comizi, scintille a distanza tra Manfredi, Maresca e Bassolino. L'antimafia dichiara in una lista di Maresca c'è un candidato con una condanna per droga. E poi il mattino propone due interviste. Silvio Berlusconi, senza Forza Italia non c'è il centrodestra di governo. E ancora Enrico Letta ai ballottaggi. Mi aspetto che il Movimento 5 Stelle appoggi il partito democratico. L'editoriale, il prossimo sindaco. Che cosa serve dopo la ricreazione De Magistris di Federico Monga? Napoli è reduce da una ricreazione amministrativa lunga 10 anni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Strade dissestate, parchi desertificati, alberi abbattuti, cantieri ormai parte dell'arredo urbano e un buco di bilancio al netto delle società partecipate arrivato a 4 miliardi di euro. Il comune è tecnicamente falito da tempo. Lo stato di abbandono, magra consolazione, è comunque democratico. Tocca ai quartieri più ricchi. Viali gruviera della collina di Posillipo, ridotti a un cimitero di pini marittimi. E la cartolina del lungomare, stracciata dal passaggio delle auto e dalla galleria della Vittoria, mai in mano tenuta, è chiusa per mettere gli automobilisti al riparo dai crolli. Ma il disinteresse per la gestione della cosa pubblica ha ferito soprattutto i quartieri più poveri, lasciati senza assistenza agli anziani, ai disabili, ai bambini in età prescolare. Sono state le fasce di popolazione più deboli ad essere toccate davvero nella carne viva da chi si era riempito la bocca dello slogan «Prima le periferie». Per arrivare da Scampia alla stazione centrale, nonostante la metropolitana, può servire anche più di un'ora. Per non dire delle funicolari, una volta simbolo della tecnica partenopea, e ora più chiuse che funzionanti, tra manutenzione inesistente e personale assente, spesso in sciopero, colpito da contagi di massa. I servizi dai rifiuti alla pulizia sono ai minimi termini, senza le impose le addizionali comunali ai massimi. I vigili urbani latitano come i giardinieri. La macchina amministrativa è rimasta spoglia di geometri, commercialisti, architetti, tecnici e impiegati. Il palazzo del municipio è stato letteralmente abbandonato dal sindaco. La fotonotizia, dedicata poi a Vasco Rossi al 7 giugno 2022, la data in cui il rocker nello stadio Maradona terrà il suo concerto. Torno nella città dei mille culure, qui penso a lui e Pino Daniele, ha dichiarato Vasco Rossi. E concludiamo con l'altra voce dell'Italia, il quotidiano del sud di Roberto Napoletano. Per cavalcare la crescita servono i cavalieri. Ovviamente anche qui il titolo di apertura è dedicato alle amministrative e al piano nazionale di recupero e resilienza. Scegliamo gli amministratori che offrono maggiori garanzie, dice il direttore, perché da loro dipende l'attuazione della loro parte del piano. Si è riusciti in sei mesi a recuperare due terzi di quello che si era perduto come prodotto interno lordo, facendo molto meglio delle grandi economie europee per la prima volta dopo vent'anni. Si è arrivati così a ridurre di oltre sei punti la quota percentuale prevista dal debito rispetto al PIL e si è liberata una quota preziosa di risorse e di bilancio pubblico italiano che consente di svincolare più di 4 miliardi che blindano la spesa per gli asili nido nei comuni del mezzogiorno. Altrimenti sarebbe finita come finita sempre. Io, Comune del Sud, non faccio gli asili nido perché non ho i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti comunali. Ma se il Comune e ancora di più la Regione rallentano la tabella di marcia, allora arriva il Ministero. Se nemmeno il Ministero giunge a destinazione, allora arriva la Presidenza del Consiglio. In tutti questi passaggi serve un capitale umano che risolva il problema e sblocchi i lavori. E con questo è tutto. Si chiude qui la rassegna stampa quotidiana. Grazie per essere stati con noi. La linea va ora alla rete per la consueta programmazione. Buona giornata.